E' mancato il classico soldo per fare la lira per Montecatini, una partita sempre in seguire Luse-Empoli, poi alla fine a 4 minuti è arrivato il sorpasso di Mercante, il Palaterme si infiamma, Montecatini ha vantaggio di 2 punti ma non riesce a fare quel passettino in più che le permetterebbe di allungare definitivamente. Luse sbanca il Palaterme 67-65, il finale risulta decisiva un contropiede di Giannini sulla palla persa di Mercante, risultano decisivi il tripolo di tiri liberi tirati dagli avversari nei confronti di Montecatini, risulterà forse decisivo anche il pessimo inizio di quarto di Montecatini che è andato a sotto di 14-23-9, tante cose risultano decisive ma quel che più conta è il cuore, il carattere e l'intensità con cui il Rosso-Bruno ha rimontato, sono rimasti in partita e hanno provato anche a vincere fino alla fine. Il tiro da tre punti di Mercante allo scadere ha sbirillato ed è uscito, il urlo è rimasto in gola ma gli applausi, quelli sì, sono arrivati scroscianti e convinti per una squadra che ha giocato con grande cuore. Per 35 minuti abbiamo fatto una palla canestro piacevole ed efficace, purtroppo non al 100%, c'è mancato qualcosa ma faccio i sentiti complimenti a Empoli che ha interpretato invece un match in maniera ottimale. Noi dobbiamo andare oltre qualsiasi situazione avversa, quindi lavorare sulle nostre cose senza preoccuparci, come stasera abbiamo fatto, abbiamo ruotato in otto stasera, di sfortune, sviste, fischi, non fischi. Noi dobbiamo pensare al nostro, migliorare come abbiamo fatto negli ultimi 15 giorni in maniera direi anche esponenziale. Per cui io sono soddisfatto di tantissime cose e prenderemo come insegnamento gli errori che abbiamo compiuto per rimare ancora di più il gap che ci manca a poter essere una squadra nettamente pronta.